Gli odori li registra ogni giorno, le polveri sottili ogni ora. Stiamo vigilando e affrontando il problema delle polveri sottili, lo assicura l'assessore all'ambiente del comune di Fano, Barbara Brunori, che ha fatto il punto sui dati e sulle centraline attive. Ad oggi abbiamo cinque monitoraggi in corso, spiega l'assessore, a partire dalla centralina di Pace, che il 24 dicembre scorso aveva avuto delle anomalie di funzionamento, ma è tornata a regime. Sempre a Bellocchi, di fronte al Troni, ce n'è una mobile che indaga sia sugli odori che sulle PM10, mentre in via Papiria, la centralina, appena ha terminato di rilevare i dati e verrà presto analizzata. Ulteriori due mini campionatori sono stati posizionati in Piazza Bambini del Mondo e in via Campania. Tra una quindicina di giorni si avranno i risultati anche di questi ultimi due. Successivamente sono stati posizionati due mini campionatori all'interno della zona industriale, uno nell'autoparco e uno all'interno invece di via 21esima strada, che quelli invece sono proprio quelli messi dall'Università di Urbino, che è il Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate, alla quale abbiamo dato un secondo incarico per andare ad indagare sulla speciazione delle polveri sottili, capire appunto quali tipi di polvere vanno a generare questi superamenti. Per cui mi sento di dire che la situazione è sotto controllo, sarà mia premura quella di informare la cittadinanza su quelli che sono gli esiti che usciranno, quindi che pubblicheremo sul sito del Comune di Fano, ma per prima vi racconterò anche attraverso servizi e comunicati stampa. Il secondo incarico affidato all'Università, precisa Brunori, ha avuto un costo complessivo di 23.000 euro, mentre il primo di 73.000, un impegno economico assunto dall'amministrazione comunale per uno studio approfondito, mai eseguito prima d'ora in città. Volevo anche aggiungere che come presidio di qualità dell'aria della città abbiamo la centralina di via Montegrappa, che è la centralina storica, quella è a flusso continuo per cui fa una rilevazione oraria, giornaliera e mensile di tutte quelle che sono le polveri. Lo scorso anno ho avuto 34 sforamenti, il limite sono dei 35, ho indetto una riunione straordinaria con ARPAM, quindi col direttore scientifico Catenacci e ASUR, per capire se quelli che erano i provvedimenti che stiamo adottando con le ordinanze erano giusti, ci hanno rassicurato in attesa degli esiti dei due minicampionatori.